La droga, in particolare l'eroina, veniva importata in Italia dall'Albania attraverso il porto di Bari e poi convogliata nelle piazze di spaccio di Crotone, Catanzaro e comuni limitrofi. Un traffico gestito da soggetti di etnia albanese e persone appartenenti alla comunità Roma. Nella notte è scattato il blitz dei carabinieri tra i quartieri sud di Catanzaro e di Girifalco. 13 le persone arrestate, accusate di traffico illecito di stupefacenti, estorsione e ricettazione. Gli inquirenti hanno disarticolato due sodalizi criminali. La misura cautelare emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri scaturisce da due distinte indagini condotte rispettivamente dalle compagnie di Catanzaro e Girifalco, poi riunite in un'unica indagine. L'attività investigativa è stata condotta attraverso intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Un ulteriore apporto alle indagini, con riferimento soprattutto al contesto associativo, è stato fornito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano descritto un quadro preciso sulle attività illecite in materia di stupefacenti ad opera di contesti familiari di etnia Rom nell'area sud del capoluogo. Complessivamente, durante l'attività investigativa, sono state arrestate in flagranza o fermate 34 persone e sequestrate oltre 45 kg di sostanze stupefacenti del tipo eroina e marijuana, 18.000 euro in contanti, circa 70 kg di sostanze da taglio e due armi illecitamente detenute. Grazie 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 Grazie